Il momento presente, il momento presente non esiste. La luce della luna è partita un secondo prima che il nostro occhio la vede, mentre per quello del sole, otto minuti dopo, il momento presente, il momento presente non esiste. La luce della luna è partita un secondo prima di quanto il momento presente, il momento presente non esiste. La luce della luna è partita un secondo prima di quanto il nostro occhio la vede, mentre per quello del sole ci vuole otto minuti e quella delle stelle possono essere già morte e ci sono ammirati milioni di anni. Il momento presente, il momento presente non esiste. La luce della luna è partita un secondo prima, il momento presente non esiste. La luce della luna è partita un secondo prima che il nostro occhio la vede, mentre per quello del sole, otto minuti dopo, e quella delle stelle possono essere già morte, già da un milione di anni. e questo film, questo film, il momento presente non esiste. La luce della luna è partita un secondo prima di quanto il nostro occhio la vede, mentre per quello del sole ci vogliono otto minuti. E le stelle più piccole che vediamo possono essere già morte, già da un milione di anni. Anche quando vedranno questo film, potrà stato, potrà stare, potrà stare, potrà stare, potrà stare. Il momento presente, il momento presente non esiste. La luce della luna è partita un secondo prima di quanto il nostro occhio la vede, mentre per quello del sole ci vogliono otto minuti. E le stelle più piccole, che vediamo, s'essere già morte da un milione di anni. Quindi, 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 no, quindi no. Il momento presente non esiste. Il presente... Il momento presente, il momento presente non esiste. La luce della luna è partita un secondo prima di quanto il nostro occhio la vede, invece per quanto riguarda il sole ci vogliono otto minuti. Il momento presente non esiste. La luce della luna è partita un secondo prima di quanto l'occhio la vede, e per quanto riguarda il sole, otto minuti dopo. E le stelle più piccole, che vediamo nel cielo, possono essere già morte già da un milione di anni. Anche quando vedranno, questo film sarà girato da chissà da quanto tempo. Quindi il tempo sta solo nella tua mente. No. Grazie a tutti.